Cari amici, benvenuti nel canale della farmacia di San Martino al Tagliamento e oggi parliamo di una pianta popolarissima, il cacao. Normalmente associamo il cacao alla cioccolata, ma in realtà l'uso del cacao non si limita solamente ai dolci. Come vedremo sono tantissime le sostanze benefiche contenute nei semi del cacao e le sue proprietà che vengono sfruttate non solo in ambito fitoterapico ma anche in ambito cosmetico. Inoltre oggi sfateremo un altro mito, quello che recitava una famosa pubblicità degli anni che furono e che finiva Mi vuoi tutta ciccia e brufoli? Ovvero cercherò di rispondere alla domanda che tutti ci facciamo, il cioccolato fa veramente ingrassare e venire i brufoli? Ma non perdiamoci in chiacchiere e sigla! Si dice che fu Queascoatl, il dio serpente con le piume, a donare i semi di cacao al suo popolo, gli Astechi, per trarne una bevanda afrodisiaca, amara ed energizzante. Tutti questi mitici racconti, oltre che a aumentare il fascino del cioccolato, ci servono per arrivare là dove tutto ebbe inizio, e cioè nell'America di molti secoli fa, molto prima che Cristoforo Colombo approdasse nel Nuovo Mondo. La storia del cacao si perde infatti nella notte dei tempi. Lo stesso termine cacao, secondo gli esperti, potrebbe avere origine dalla parola degli antichi Olmechi che si pronunciava cacaua, vecchia di 3.000 anni. Furono comunque i Maya e gli Astechi a coltivare la pianta in maniera intensiva e fare ampio uso dei suoi frutti, usando il cacao nelle cerimonie religiose e donandogli così una forte connotazione mistica. In forma liquida veniva consumato come bevanda, spesso aromatizzata con vaniglia, peperoncino. Questa bibita, chiamata xocoatl, aveva un caratteristico aspetto schiumoso e un gusto apprezzato dai locali che lasciò molto perplessi i primi conquistatori. Gli Astechi consumavano il xocoatl come tonico ed energizzante. Pare addirittura che l'ultimo sovrano asteco, Montezuma, ingoiasse decine e decine di tazze di cacao al giorno. L'importanza del cacao, al tempo degli Astechi, era tale che veniva considerato come un bene prezioso e i suoi semi usati come moneta. Fu Hernán Cortés a portarlo in Europa alla fine degli anni 20 del Cinquecento, come regalo a Carlo V. Ma ci vorrà quasi un secolo perché l'uso del cacao si diffondesse in tutta Europa. Questo uso, però, fu molto diverso rispetto ai paesi dai quali proveniva, in quanto qui da noi prevalse fin da subito un uso culinario, dolciario e non medicinale. Infatti, una delle prime cose che fecero gli europei dall'epoca fu di consumare il cacao non con il peperoncino o il pepe, ma con vaniglia e zucchero. Le bevande a base di cacao in Europa divennero così celebri che finirono per essere considerate alimenti di lusso. Arrivando ai giorni nostri, ormai tutti possiamo gustare il cacao, ma quello che si confonde è che il cacao è un prodotto di origine naturale, mentre invece la cioccolata è un prodotto industriale che, a meno che non sia fondente oltre l'85%, delizia sì il palato, però è ricco di zucchero e aumenta quindi la glicemia. Eppure il cacao fa bene, solo che a nessuno verrebbe in mente di farsi una bevanda con solo i semi di cacao. In effetti però, nei semi di teobroma cacao troviamo moltissimi polifenoli e flavonoidi, molecole simili a quelle del tè verde. In particolare, questi flavonoidi del cacao si chiamano flavanoli. Ovviamente non è scontato, per cui è sempre bene ricordarlo, e cioè che questi flavonoidi li troviamo anche nel cioccolato, ma in quantità biologicamente rilevante solo nel fondente. Dall'assunzione del cosiddetto cioccolato al latte non si ha un apporto rilevante di flavonoidi, probabilmente perché le proteine del latte li complessano. Studi scientifici hanno dimostrato che i polifenoli contenuti nel cacao possiedono diverse proprietà. Per le loro caratteristiche, i polifenoli del cacao possono essere dunque impiegati per diverse problematiche e migliorare il profilo cardiovascolare, ma non solo, anche quello metabolico e cerebrovascolare. Sono noti infatti gli effetti dei polifenoli del cacao nel riattivare i processi coinvolti nel metabolismo cerebrale. Agiscono per esempio a livello endoteliale, favorendo il rilascio e la sintesi di ossido nitrico, sostanza che regola la vasodilattazione, portando a un miglioramento della funzione vascolare. Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2003, 100 grammi di cioccolato sarebbero in grado di accrescere la capacità antiossidante totale nel plasma e nei fluidi corporei. Quindi potremmo affermare che la supplementazione giornaliera di polifenoli del cacao contribuisce alla vasodilattazione dell'endotelio, favorendo il normale apporto di sostanze nutritive al cervello, e questo garantisce un effetto protettivo. Questo effetto è apprezzabile soprattutto in quei casi che necessitano il supporto di tali sostanze, come ad esempio nel supportare l'efficienza mentale o nel declino mentale cognitivo dovuto all'invecchiamento. Una sostanza da ricordare, presente nel cioccolato, è la teobromina, un alcaloide naturale, che tra l'altro è presente anche nel tè verde, che nei semi del cacao è presente dal 2 al 2,7%. La teobromina è una xantina e perciò possiede un'azione sul sistema nervoso centrale, simile alla caffeina, favorendo la concentrazione e diminuendo il senso di fatica, dando però anche un effetto diuretico e vasodilattatore che è maggiore della caffeina. La teobromina esercita un'azione diretta sui tubuli renali, promuovendo anche una lieve stimolazione diuretica. Secondo varie ricerche, agisce come lenitivo di problematiche per le vie respiratorie superiori e sarebbe in grado principalmente di fungere come sedativo della tosse e quindi può contribuire ad aiutare contro i sintomi dell'asba, per esempio. Come dicevo prima, c'è una grossa differenza tra cioccolata latte e quella fondente, come contenuto di cacao principalmente. La differenza è la quantità di zucchero. Meno il cioccolato è fondente, più è facile che lo sbalzo glicemico provocato dall'ingestione dell'alimento infiammi l'organismo, acidificandolo e a lungo andare, abusando di cioccolato, possono quindi insorgere vari disturbi. L'acne, tutto sommato, è il minore dei disturbi provocati dall'abuso di cioccolato. Non è mai stato provato scientificamente un legame univoco tra acne e cioccolato, però è stato provato che troppo zucchero fa male, quindi come sempre bisogna avere un po' di buon senso. È ovvio che esagerare non va mai bene. Spesso gli abusi del cioccolato si fanno soprattutto quando ci sono cali del tono dell'umore, perché è di opinione corrente che il cioccolato in qualche modo combatte la depressione. In realtà l'aumento del tono dell'umore è dovuto anche all'apporto di magnesio, di cui il cacao ne è ricco, che aiuta a rilassare. Poi c'è anche lo zucchero presente, che stimola una risposta serotoninergica, aumentando la produzione di dopamina, che ci dà quella classica sensazione di appagamento e di benessere. Tuttavia questo fenomeno a lungo andare può renderci dipendenti dal cioccolato, un po' come se fosse uno psicofarmaco, generando il noto fenomeno effetto craving. Esistono poi nel cacao anche altre sostanze della categoria delle ammine, presenti in discreta quantità, che mimando gli effetti della dopamina e noradrenalina, aumentano il tono dell'umore e quindi potenziano ancora di più l'effetto craving. Fortunatamente queste sostanze non raggiungono mai livelli così elevati da poter rappresentare un pericolo. Queste sostanze, per citarne alcune, sono la feniletilammina, che mima gli effetti della dopamina e della noradrenalina, favorendo la veglia e ritardando la comparsa della fatica. Poi c'è la tiramina, un precursore della tirosina e la triptamina, un precursore del triptofano. Cari amici, anche per oggi abbiamo finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale dove troverete tanti altri video sulla medicina naturale e non mi resta che dire, come al solito, al prossimo video!